Oggi sono qui a parlare del rapporto tra i professionisti tecnici e il tema dell'emergenza, esemplificato soprattutto da questa iniziativa, diamoci una scossa, promossa dalla Fondazione Inarcassa, che è la Cassa di Previdenza di Architetti e Ingegneri e fortemente condivisa e sostenuta dai rispettivi consigli nazionali architetti e ingegneri. È un progetto sperimentale che vuole riportare al centro delle comunità il ruolo e il valore delle professioni tecniche, in particolare architetti e ingegneri, promotori di una politica di sensibilizzazione e consapevolezza del rischio nella società civile. Non si esaurisce in questi appuntamenti, quello del 30 settembre che è stata la giornata di presentazione il mese di novembre dedicata ai sopralluoghi, ma vuole perfezionarsi e ovviamente essere replicata negli anni a venire coinvolgendo anche tutta la filiera delle professioni tecniche, in quanto il tema della prevenzione in un paese sostanzialmente fragile come l'Italia, diventa un tema non più rinviabile e soprattutto va affrontato in termini di maggiore efficacia ed efficienza, non solo nell'azione sul campo dei professionisti, ma anche nella corretta comunicazione dell'opinione pubblica.